Buongiorno a tutti, mi chiamo Paolo, vengo da Varese e sono qui per dirvi che qua io mi sono trovato veramente molto bene, ho trovato medici competenti, bravi, seri, appassionati, sono stato veramente contento di essere venuto qui a Chiginau a fare dei lavori importanti che avevo da fare. In Italia non ho neanche guardato, non ho anche chiesto dei preventivi, so che costa troppo, ho trovato un prezzo equo, ma soprattutto ho trovato molta competenza, molta serietà e molta professionalità. La clinica è molto ben organizzata, vi accompagnano sia durante il percorso di cure, sia anche quando siete fuori, sempre comunque la possibilità di essere accompagnati, di essere aiutati, non siete lasciati a voi stessi una volta che non avete da stare in clinica. Il costo è adeguato, comunque molto meno che in Italia e anche meno che in altri paesi europei, ma quello che conta veramente è la professionalità che ho trovato qua. Io oggi ho un bel sorriso, torno a essere contento, a relazionarmi di nuovo con gli amici, i parenti, i colleghi, i clienti, mentre prima avevo dei problemi e mi vergognavo, oggi sono tornato a essere quello che ero una volta, grazie a loro e grazie alla competenza e ai medici che ho trovato qua. Per cui se mi state guardando e avete già un'idea di andare a destra a curarvi, siete arrivati nel posto giusto, venite qua, non c'è bisogno di andare verso un'altra parte.